Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando della campagna estate sicura. Andiamo a vedere il bilancio, il risultato ottenuto dalla Polizia di Stato. Prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità sono le parole chiave che hanno contraddistinto la campagna estate sicura, voluta dal questore di Messina al fine di intensificare durante tutto il periodo estivo l'attività di prevenzione generale e controllo del territorio garantendo la massima sicurezza a turisti e cittadini. Al termine dell'estate è positivo il bilancio di un progetto che ha visto in campo tante risorse e i moderni strumenti a disposizione della Polizia di Stato per permettere a tutti di vivere serenamente la propria città. Una presenza, quella della Polizia, spesso silenziosa e defilata, massidua e costante nel perseguire sicurezza, informazione e prevenzione. Sono 23.841 le persone e 10.076 i veicoli sottoposti a controllo. Quotidiani i posti di controllo lungo le strade cittadine di ogni quartiere e innumerevoli i servizi effettuati presso lidi, bar, discoteche e soprattutto nei principali luoghi di aggregazione. Specifici servizi antidroga di contrasto al fenomeno dello spaccio hanno permesso il rinvenimento e il sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente destinato al mercato messinese e pronto a essere smerciato per un totale di oltre 35 kg di droga tra marijuana, crack e cocaina. Infine, durante l'estate sono 68 le persone arrestate e 249 quelle denunciate all'autorità giudiziaria per i reati più disparati, tra cui furto, rapina, rissa e porto abusivo di armi. Nella cornice appena descritta si inserisce l'intensificato uso degli acquascooter per la vigilanza dei litorali. Più di 1.500 miglia percorse lungo le coste delle principali località balneari durante una costante attività di pattugliamento, non solo sullo stretto di Messina ma anche a Taormina, Giardini Naxos, Patti, Capodorlando e Lipari. Sono cinque inoltre in atanti in difficoltà soccorsi nelle acque siciliane e condotti in salvo dalle moto d'acqua della Polizia di Stato. Infine, l'appena trascorsa estate, ha impiegato la questura di Messina nei numerosi servizi organizzati per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in primis per le delicate operazioni relative ai nuovi sbarchi che hanno condotto all'identificazione, al fotosegnalamento e alla collocazione di oltre 2.200 migranti soccorsi in mare. Parallelamente, gli immediati accertamenti di Polizia giudiziaria dei poliziotti hanno spesso consentito di risalire ai presunti scafisti indiziati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Parliamo ancora di controlli, in questo caso effettuato dai carabinieri del NAS di Ragusa, che hanno disposto la chiusura di una casa di riposo nella quale sono state riscontrate diverse irregolarità, struttura che si trova a Vittoria. Nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, operazione estate tranquilla 2022, presso le strutture ricettive dedicate all'ospitalità di persone anziane, ambiti lavorativi ritenuti a maggior livello di rischio anche per possibili inosservanze sul rispetto dell'obbligo delle misure di prevenzione e contenimento del covid, nel corso di una verifica espletata nel comune di Vittoria è stata ispezionata dal NAS Carabinieri di Ragusa una casa di riposo per anziani per la quale il sindaco di Vittoria ha ordinato la sospensione immediata dell'attività, imponendo al legale rappresentante della struttura l'immediato trasferimento in altre strutture o il rientro alle famiglie di origine di tutti gli anziani ospitati. La misura si è resa necessaria poiché la casa di riposo è risultata con carenze strutturali e priva dei requisiti organizzativi e funzionali previsti per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali e gli standard per le strutture private. Al titolare dell'attività sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000 euro. Controlli anche a Siracusa, nell'isola di Ortigia e sempre da parte dei Carabinieri del NAS di Ragusa, ma andiamo nel dettaglio. Nell'ambito di predisposti controlli volti a contrastare il fenomeno delle frodi alimentari, i Carabinieri del NAS di Ragusa, in collaborazione con il personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della locale ASP, hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie presso un'attività di somministrazione alimenti sita nel cuore dell'isola di Ortigia. Per l'esercizio è scattato il provvedimento di chiusura dei locali per le criticità rilevate in materia di igiene e sanità. Inoltre, presso il deposito di pertinenza, sono stati rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione, destinati alla successiva somministrazione agli avventori. Al titolare dell'attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 9.000 euro, oltre al sequestro della merce e al deferimento dell'autorità giudiziaria del capoluogo. Parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e ci spostiamo virtualmente a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane pusher che spacciava marijuana prelevandola da un pacco di biscotti. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne brasiliano già noto alle forze dell'ordine. Al riguardo i militari, costantemente impegnati nel contrasto dei reati connessi allo smercio di droga, si sono posizionati in maniera defilata in vari punti del noto parco Falcone Borsellino, da dove hanno potuto osservare i movimenti di un giovane che, sedutosi su una panchina, ha immediatamente richiamato a sé il classico via vai di persone che, in cambio di una banconota, ricevevano un involucro simile a una dose, allontanandosi in tutta fretta. Nel corso dell'attività di osservazione si è poi avuto modo di notare come a un certo punto il ragazzo, terminate le scorte di stupefacente, ben nascoste in una busta tra le foglie secche vicino alla panchina, fosse stato nuovamente rifornito da un coetaneo che gli ha consegnato un pacco di biscotti. Che non si trattasse di una consegna diretta a ristorare il pusher, lo si è capito subito, poiché da quel momento le dosi di droga sono state prelevate proprio dalla confezione di biscotti. I carabinieri, avuta la certezza dell'attività delinquenziale in corso, sono quindi intervenuti bloccando lo spacciatore, che nei propri indumenti nascondeva 5 dosi di hashish avvolte in carta alluminio e 145 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività illecita. Nella scatola di biscotti sono invece state trovate 17 dosi di marijuana. La droga e il denaro sono stati sequestrati. L'arrestato è stato invece sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, che all'esito dell'udienza di convalida ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di residenza. A Gravina di Catania invece sei persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e allaccio abusivo alla rete idrica. Tutti i dettagli nel servizio. I militari della compagnia di Gravina di Catania, unitamente ai carabinieri del XII Reggimento Sicilia e del nucleo Cinofili, con l'ausilio di operatori delle società e distribuzione e Sidra, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dell'illegalità diffusa nella zona delle palazzine popolari di via Oberdan. Al riguardo i carabinieri, unitamente al personale tecnico, nell'ambito delle attività di verifica connesse al fenomeno dell'approvvigionamento illecito di energia elettrica e acqua pubblica, hanno pizzicato sei residenti che si erano garantiti in maniera fraudolenta la fornitura di elettricità e acqua. In particolare, tre soggetti si erano allacciati abusivamente alla rete pubblica elettrica attraverso un bypass che consentiva di non contabilizzare i consumi. Due condomini, oltre a rubare elettricità, si erano anche indebitamente collegati alla rete idrica attraverso la manomissione della condotta e l'ultimo residente si era invece accontentato di sottrarre soltanto acqua pubblica senza pagarne il servizio. Il danno stimato alla e-distribuzione è di circa 30.000 euro, mentre quello alla società Sidra è ancora in via di quantificazione. I sei individui sono stati quindi denunciati a piede libero per furto aggravato. In aggiunta i militari, in un fondo pubblico adiacente alle palazzine popolari, hanno rinvenuto, nascoste tra la recetazione, un revolver, una pistola scacciacani dal cui tappo era stata rimossa la vernice rossa, in tutto simile a un calibro 9 semiautomatica, e 56 proiettili. Le armi sequestrate saranno inviate al raggruppamento investigazioni scientifiche per gli esami balistici e biologici al fine di identificarne gli utilizzatori. Recuperato infine uno scooter rubato lo scorso 9 settembre alle Toianni e riconsegnato al proprietario. Tragico incidente stradale a Catania. Le vittime sono due giovani di 20 e 29 anni, i quali viaggiavano in sella a una moto e hanno perso la vita in viale Nitta nel quartiere Librino. Ancora da accertare le cause dell'incidente, a quanto pare il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote andando a sbattere violentemente. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimarli da parte dei sanitari del 118. Il 20enne e il 29enne, come detto, sono deceduti in seguito a questo fatale incidente. Ci spostiamo adesso a Marsala, dove è stato arrestato il presunto autore dell'omicidio avvenuto ieri. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo operativo di Marsala, gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani e del commissariato di Marsala, hanno tratto in arresto un 39enne marsalese con precedenti penali e sorvegliato speciale in relazione all'omicidio di Antonino Titone avvenuto all'interno della sua abitazione. Gli agenti del commissariato di Marsala, giunti sul posto a seguito di una segnalazione di un probabile furto in casa, avevano trovato il cadavere riverso a terra con vistose lesioni al capo, prodotte evidentemente da un oggetto contundente. Attraverso un immediato raccordo investigativo tra il personale della Polizia di Stato, presente sulla scena del crimine, e i militari dell'arma dei carabinieri, sono iniziate le ricerche di un uomo e una donna visti fuggire da alcuni testimoni dal luogo del delitto. Grazie alla descrizione, i due sono stati rintracciati dai carabinieri della sezione operativa di Marsala e condotti presso la caserma della locale compagnia. I successivi accertamenti degli investigatori dell'arma e della Polizia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno consentito così di ritrovare, a circa due chilometri dal luogo dell'omicidio, in campagna, i vestiti verosimilmente utilizzati dai due, ancora sporchi, di quelle che sembrano tracce ematiche, nonché, nascosto in un vaso nel pianerottolo di casa del soggetto fermato, la presunta arma del delitto, un piede di porco lungo circa 30 centimetri, anch'esso sporco di sangue. Visti gli elementi raccolti, gli operanti hanno proceduto alla misura precautelare dell'arresto nei confronti dell'uomo. Alla base del delitto, un presunto debito non onorato, che avrebbe indotto il 39enne a colpire ripetutamente la vittima. Il presunto autore dell'aggressione sarebbe poi stato raggiunto successivamente dalla donna, con la quale avrebbe sottratto del denaro dall'abitazione del malcapitato. Ancora cronaca con una notizia da Canicattì, siamo quindi nell'Agrigentino. I carabinieri della locale stazione, in esecuzione del provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno tratto in arresto un 43enne, il quale deve scontare la pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per 3 furti commessi nel 2019 a Serra di Falco e a Canicattì. L'uomo, che si trovava ai domiciliari dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento. Parlando di politica, sono davvero tante le reazioni arrivate dagli esponenti politici tra sconfitti e vincitori di queste ultime elezioni. Tra questi c'è ad esempio anche Caterina Chinici, lei è una delle sconfitte con il suo PD, era candidato ovviamente alla presidenza della regione siciliana. Attraverso un video su Facebook, la Chinici ha espresso il suo parere dopo l'esito del voto. Io rivolgo le mie congratulazioni a Renato Schifani per la sua vittoria e gli auguro buon lavoro. Come ho sempre detto durante la campagna elettorale, il voto è esercizio democratico di partecipazione e di responsabilità, oltre che la più alta forma di sovranità popolare, e quindi va rispettato. Io ho proposto il mio impegno, ho proposto me stessa, così come sono, senza sovrastrutture, senza maschere. Ho proposto un programma di governo per una Sicilia moderna, per una Sicilia autorevole, per una Sicilia dal tratto istituzionale. I cittadini siciliani hanno valutato, hanno valutato liberamente e hanno fatto un'altra scelta, hanno scelto un'altra guida, hanno scelto un altro programma e questo va accettato. Naturalmente questo non cambia il mio amore per la Sicilia, anzi voglio ringraziare tutti i siciliani che con il loro voto hanno confermato la fiducia in me. Quello che dispiace, ma direi forse preoccupa, è il dato dell'affluenza così basso, perché questo significa che non tanto c'è da parte dei cittadini disinteresse, ma piuttosto sfiducia nella politica. E questo significa che metà degli aventi diritto consegna la scelta all'altra metà. E questo fa venire meno anche l'esercizio democratico di controllo sull'operato della politica. E allora io credo che su questo dato tutta la politica debba interrogarsi e interrogarsi davvero attentamente e profondamente. Con le parole di Caterina Chinnici chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.